Notte di lacrime e sbarchi sull'isola di Kossi in Grecia, come documentano queste immagini. Altri immigrati arrivano stremati e impauriti sulle rive dell'isolotto Proteso verso il Mediterraneo orientale. Alcuni non si reggono nemmeno in piedi. Il pianto dei bambini infreddoliti e tremanti nei loro sguardi panico e speranza si intrecciano mentre i soccorritori li mettono in salvo all'asciutto dove le madri provvedono subito a cambiare i loro vestiti bagnati. Arriviamo da Aleppo, dice questo giovane. Siamo gente per bene, studenti universitari, professori, padri di famiglia. Scappiamo dalla guerra, i nostri figli suonano allo stremo delle forze, senza cibo né acqua. Siamo rimasti in mezzo al mare per mezza giornata a gridare aiuto prima che arrivassero i soccorsi. L'alba di questo nuovo giorno rivela la drammatica verità. Altri 200 profughi kurdi sono arrivati a bordo di sei gommoni. Le operazioni di soccorso in questi minuti ancora in corso. A salvargli una nave da crociera da oltre 2000 posti, trasformata per l'emergenza in nave da soccorso. In una sequenza senza fine, nuovi gommoni spuntano all'orizzonte, approdano, scaricano e affondano. Mentre i funzionari greci lavorano a ritmi frenetici per rilasciare i permessi di soggiorno al ritmo di mille al giorno. Una scelta politica per alleggerire il dolore dei popoli in fuga. Di fronte a un'emergenza senza fine lasciano davvero interdetti le polemiche politiche italiane. Oggi Matteo Salvini sulle colonne del Corriere accusa il segretario della CEI, Monsignor Galantino, ha addirittura di essere un vescovo comunista, salvo poi ammettere di fatto che la linea indicata da Galantino è quella del Vangelo e del Papa, cioè la linea dell'accoglienza, che non può darsi limiti. Un'intervista che risponde a dichiarazioni vibranti di Galantino sull'inerzia del governo e sui fanfaroni della politica. Dichiarazioni diffuse da Famiglia Cristiana, che ieri sera però ha fatto marcia indietro, rimuovendo dal proprio sito internet l'intervista contestata e presentando al segretario della CEI le scuse da parte del settimanale. Le dichiarazioni attribuite a Monsignor Galantino, spiega una nota firmata dalla direzione, sono state riportate in modo esagerato nei toni all'interno di un colloquio confidenziale con il nostro giornalista. Sua eccellenza è stato strumentalizzato, in quanto l'intervista doveva avvertere solo sul progetto della Chiesa italiana in Giordania. Siamo dispiaciuti per l'incidente, conclude la nota, e porgiamo le nostre più sincere scuse a Monsignor Galantino.